. Belen Rodriguez, qual è il suo segno zodiacale? Belen Rodriguez è nata il 20 settembre sotto il segno zodiacale della Vergine, nella terza decade. . Il suo ascendente è il Capricorno, e insieme ad una birbante venere in bilancia, la showgirl argentina si forma il cocktail letale di sensualità graffiante e personalità unica. Belen Rodriguez, il mondo non basta. . La showgirl argentina nata sotto il segno della Vergine aveva il successo già scritto nelle stelle. . Il 20 settembre è la data di nascita di moltissime celebrità che hanno rivoluzionato la storia della televisione. . Belen Rodriguez è un concentrato di bellezza, determinazione e talento che deve la sua fortuna al suo spirito irriverente e perfezionista che contraddistingue non solo lei, con la sua personalità unica, ma anche la Vergine, il suo segno zodiacale. . Analizzando il suo tema natale notiamo due grandi caratteristiche che hanno regalato a Belen un cielo favorevole sotto il quale si è costruita da sola, Plutone, infatti, si trova nella decima casa, ovvero quella dedicata alla carriera. . . E possiamo solo elencare rapidamente tutti i successi della showgirl argentina negli ultimi tempi, da regina di Sanremo a designer e modella di costumi da bagno, tutto ciò che Belen tocca si tramuta in oro. . Il suo profilo social tasta il polso alla società moderna e influenza, come un autentico trendsetter, i consumi di tutto il mondo. . Modella affascinante, testimonial di brand di fama internazionali come Swarovski, conduttrice e attrice in fase di decollo, scusate se è poco. . A renderla, se possibile, ancora più bella, ancora più felice e ancora più realizzata ci pensano suo figlio Santiago, la luce dei suoi occhi, e la relazione edificante che ha costruito, giorno dopo giorno, con il suo bellissimo Andrea Iannone. . . Per una vergine, lamore è quanto ci sia di più importante al mondo. . Nonostante il suo bisogno di riflettere a volte troppo sulle incombenze di tutti i giorni, le vergini tendono a esprimere il loro massimo potenziale una volta che si sono innamorate. . . L'influsso positivo di una vergine all'interno della nostra vita non porterà solo felicità, ma anche senso degli affari e ambizione. . Belen Rodriguez è una vergine, un segno di terra, e come tale è la perfetta combinazione tra bellezza, arte e senso pratico. . . Prima di gettarsi in una nuova avventura, la vergine riflette e valuta la persona che gli starà accanto, nell'eterna ricerca del suo ideale di perfezione. . . Come si conquista una vergine. . . Per conquistare la vostra Belen dovete prepararvi a una donna dalle mille sorprese. . . Una vergine è una donna piena di misteri e di segreti, che ama tenere per sé i suoi assi nella manica fino a che le porti di casa non si sono chiuse. . . Le vergini credono fermamente nel concetto di amore vero e sono alla costante ricerca della persona giusta. . La loro sensualità stravagante e fuori dal comune indovinate un po', proprio come quella di Belen è un marchio di garanzia. . Una vergine non impiegherà molto tempo a farvi capire che non è interessata a voi, e saprà sempre come assestarvi un bel due di picche. . Il trucco per conquistare una donna di questo segno? Mai prenderla per scontata. . . Quando ama, la vergine ama senza limiti, ma è fondamentale conquistarla ogni giorno, sorprenderla e farla sentire speciale. . In cambio si riceveranno amore incondizionato, fedeltà e, cosa più importante, la felicità di coppia. . . . . . . .